Sanremo 2023, annunciato finalmente l'ospite big straniero, traditi gli indizi iniziali Amadeus, nel corso del TG1, ha annunciato il tanto atteso secondo super ospite internazionale, ecco di chi si tratta Il tanto atteso secondo ospite big internazionale del Festival di Sanremo 2023, dopo l'annuncio relativo alla band Black Eyed Peas, è finalmente stato svelato. Sono però stati disattesi gli indizi iniziali Ma si proceda con ordine. Amadeus, mercoledì 1 febbraio, si è collegato con il TG1 delle 20,00 e ha reso noto che sul palco dell'Ariston saliranno i Depeche Mode, storico gruppo britannico che ha segnato la storia della musica mondiale nelle ultime decadi Si esibiranno nel corso dell'ultima serata della Kermes, quindi sabato 11 febbraio L'annuncio sarebbe dovuto arrivare nel corso della scorsa puntata di Domenica Inn, ma per motivi ignoti, forse non era ancora stata chiusa la trattativa, è sleittato Disattesi gli indizi di Fiorello Fiorello aveva dato qualche indizio in merito al super ospite straniero nelle scorse ore, assicurando che si sarebbe trattato di una donna americana con origini italiane Ora invece si scopre che sull'Ariston si esibiranno i Depeche Mode, formati da musicisti inglesi e nel cui gruppo non c'è alcuna figura femminile Insomma, pare che Fiore si sia divertito a depistare e a mescolare di proposito le carte Chi ha la memoria lunga, ma nemmeno troppo, saprà che la band capitanata da Dave Gowan non è la prima volta che sarà protagonista al concorso Canoro Ligure Infatti il gruppo inglese è stato a Sanremo nel 1986 con Stripped, nel 1989 al Palaroc con Everything Counts e nel 1990 di nuovo al Festival con l'immortale Enjoy the Silence, uno dei suoi successi più popolari e celebri nel mondo Tra pochi giorni Depeche Mode saranno di nuovo nella città dei fiori e faranno poche ral festival, anche se ci tornano senza Andy Fletcher, deceduto nel maggio 2022 La banda ha da poco lanciato il suo ultimo progetto discografico dal titolo Memento Mori Si tratta di un nuovo album, per la precisione e il quindicesimo in studio per il gruppo L'uscita del disco è stata annunciata con una conferenza stampa a Berlino lo scorso 4 ottobre Il lavoro musicale sarà fruibile per i fan a partire dalla primavera 2023. Seguirà un tour, Memento Mori World Tour 2023 L'ospitata a Sanremo è per i Depeche Mode una ghiotta occasione per lanciare il nuovo album